Salve a tutti signore e signori, il vostro strano amico Andrea Beneventi è qui per fare la reaction al secondo trailer di Sonic X Shadow Generations. Dobbiamo ringraziare Sonic Team Blog per averlo re-uploadato perché non sono riuscito a trovare la versione italiana di questo trailer da nessuna parte. Non vedo l'ora di vederlo, già reactai al primo trailer qualche mesetto fa. Spero di vedere nuovi stage, spero di vedere altre anticipazioni sulla storia. Direi di partire, vai! Ok, l'Hair Dragoon classico. Ogni generazione ha bisogno di eroi. Vabbè, questi sono stage che abbiamo visto e rivisto nella versione originale e anti-eroi. Siamo seri? Quindi nel gioco finale noi avremo ben due livelli direttamente da Sonic Heroes. Si sai Dill e Rail Canyon, che è questo livello qui. Salve a tutti, questo è l'Andrea del futuro che vi parla. Il motivo principale per cui è presente Rail Canyon in questa remastered non è tanto per un fattore di storia, ma più che altro perché in un Summer Rainfest del 2011-12, non mi ricordo che anno, gli sviluppatori hanno detto che a loro sarebbe piaciuto tantissimo vedere Rail Canyon in Sonic Generations, quindi proprio dal principio. Ok, il suo Omnig Attack mi ricorda tantissimo quello di Forces. Cos'è quella roba lì? Cosa dite? Che cazzo dite? Che cosa cazzo dite? Cosa cazzo dite? Che cazzo dite? Allora, voi non mi potete far prendere due attacche di panico nella stessa reaction. Fermi. Kingdom Valley! La fune è elastica come nel gioco originale. Mamma mia. Bellissima, questa cosa è bellissima. Cosa sono quelle ali? 25 ottobre, ok c'è la data. Bonus pre-order? Quindi mi state dicendo che il bonus pre-order è la skin di Sonic dell'era Dreamcast. Ragazzi, sto per piangere. Allora, partiamo per Radio, ok? Allora, da quel che sto vedendo, poi magari questi qua potrebbero essere filmati dell'alpha, le definiture sia dei modelli dei personaggi che dei stage sono esattamente le stesse di Sonic Generations normale. Però a quanto pare l'arco narrativo dedicato a Shadow è stato curato con lo stesso Engine di Sonic Frontiers. Io sono sia contento ma allo stesso tempo deluso perché io immagino uno che gioca al videogioco finisce la parte di Generations, passa quella di Shadow e vede uno stacco enorme tra la grafica di uno e la grafica dell'altro perché sembrano due giochi diversi. Se notate, le sequenze che noi abbiamo visto sono identiche. Io spero che questa qua sia un'altra casualità e che siano soltanto poche tra le tante sequenze che noi vedremo all'interno di ciascun livello di Sonic X Shadow. Perché onestamente se tu mi vuoi far uscire una versione apriridata del gioco e poi non aggiungi nulla a livello di sfida e a livello di layout, di design, fai il furbetto e non va bene. E poi noi vediamo questa Rail Canyon Distort. Mi dà lo stesso alone di distorsione che c'era in Sonic Forces. Ok, quindi riconfermato Claudio Moneta su Shadow. Disponibile su... Ah, eccola la copertina del gioco. Anzi, già che ci siamo, voglio prendere la versione per PlayStation 3 di Sonic Generations per fare dei paragoni. In realtà, vederla adesso dà tutto un altro effetto perché ricordo ieri sera in live che noi eravamo super negativi da questa copertina perché uno sembrava fatta da un fan e sembra tuttora fatta da un fan e secondo sembra che non l'abbiano modificata di molto. In realtà, guardandola bene, allora, Classic Sonic e Sonic Moderno sono posti allo stesso modo di come sono stati posti in questa copertina, con la differenza che c'è Shadow al centro. Però lo sfondo sembra una sorta di Metropolis. Allora, nella parte superiore vediamo Metropolis in fiamme e nella parte inferiore sembra sempre Metropolis o un'altra città, però normale. Ok. E poi a destra noi possiamo notare i bonus pre-order. Il diario di Gerard Robotnik e i dettagli sulla creazione di Shadow. Gerard Robotnik, per chi non fosse fan, è il nonno del Dottor Eggman ed è anche il creatore di Shadow. Vabbè, la cosa della skin di Sonic già l'avevamo vista. Lo puoi anche ordinare dall'Epic Games Store. Skin di Terios. Ok, quindi già in questo trailer hanno dato dettagli sul DLC. In arrivo a Natale 2024. Vabbè, è normalissimo. Con musiche di sottofondo extra, punti abilità, artbook digitale più colonna sonora. Eh, ovviamente come dice sopra impressione, se voi non avete avuto la possibilità di preordinare il gioco, vi acquistate la Digital Edition alla sua uscita e potete avere tutto questo ambaradam. Attenzione, però l'uscita anticipata non è disponibile per Nintendo Switch. E allora mi dispiace per i Nintendari, se voi volete acquistare il gioco prima di tutti gli altri, prendetevi una Playstation o un Xbox. No, scherzo, giocatelo quando vi pare e come vi pare. Ragazzi, non ho parole. All'inizio l'avevo preso come una Remastered fatta così, solo per pubblicizzare il film, però sembra che ci abbiano messo veramente così tanto impegno per realizzarla. Soltanto che vorrei aprire un'ultima parentesi prima di salutarci. Noi prima abbiamo avuto la conferma che ci sarà Rail Canyon, quindi avremo in totale due livelli da Sonic Heroes, e qui noi vediamo Kingdom Valley direttamente da Sonic 2006. Io spero che abbiano fatto la stessa cosa anche per gli altri giochi, ovvero darci la possibilità di giocare ben due livelli. Io non dico di giocare atto modern e atto classico come nel gioco originale, ovviamente spero che questa possibilità ci verrà data anche nella versione remasterizzata, ma quando io parlo di due atti diversi, io parlo di due zone diverse, quindi in Sonic 1 tu mi potrei mettere sì la classica Green Hill Zone, e poi appena finita Green Hill Zone potremmo giocare a Scrap Brain per esempio, in Sonic Trenacles Mushroom Hill Zone, o addirittura aggiungere giochi che fanno parte del canon che non sono stati messi nel gioco originale, per esempio Sonic Rush, Rush Adventure, Sonic Eianelli Serreti, Il Cavaliere Nero, potrei dire anche Forces Lost World e Frontiers, però non sappiamo se questo gioco verrà messo allo stesso modo di Generations, ovvero dopo Sonic Colors e prima di Sonic Lost World, anche se non è una possibilità da sottovalutare. Però Sonic Eianelli Serreti e Sonic Il Cavaliere Nero mi piacerebbe vederli. Più che altro sarebbe interessante vedere come potrebbe adattarsi il gameplay di questi due giochi a quelli del Sonic moderno, perché Sonic nella serie Storybook si poteva muovere soltanto attraverso i sensori di movimento del Wiimote. E sì ragazzi, la serie Storybook, anzi la bilogia Storybook è canonica, c'è letteralmente un dialogo dove Sonic e Tails dicono come quando noi avevamo salvato geni in libri di magia, e ovviamente si riferisce a una scena in particolare di Sonic Eianelli Serreti, non mi ricordo di preciso in che arco narrativo, però è presente, questo è poco ma sicuro. Ragazzi, aspettate, vi saluto con questa immagine. Forse noi siamo davanti alla remastered definitiva di un gioco di Sonic. Ovviamente alla fine di ogni video io vi ricordo di lasciare un pollicione all'insù, un commento per farmi sapere appunto cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative per questa remastered. Un'iscrizione e ovviamente condividete il video e il mio canale con i vostri amici. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.